Il menu a schermo dello Sharp L820 è stato leggermente rivisto rispetto a quello della gamma precedente. Vediamo che ha delle semplici animazioni ed è strutturato in questo modo. Nella parte superiore abbiamo una banda, una barra diciamo di controllo con le varie categorie del menu. L'immagine viene impicciolita sulla sinistra e sulla destra abbiamo le opzioni disponibili. In particolare vediamo le funzioni di regolazione e vediamo che oltre alla barra superiore che copre in larghezza tutto lo schermo abbiamo un'altra barra secondaria qua sotto che raccoglie le differenti voci del menu. Le impostazioni generali, quelle di immagini, audio, il setup per il risparmio energetico e così via. Naturalmente la parte più interessante è quella relativa alle regolazioni video. La maggior parte dei televisori, anche in questo caso, possiamo selezionare diverse modalità preimpostate. Noi abbiamo selezionato quella film come punto di partenza. OPC si riferisce al sensore di luce ambientale che regola dinamicamente la retroilluminazione in funzione della luce presente nell'ambiente in cui installato il televisore. Qui vediamo la regolazione manuale della retroilluminazione con intervalli da meno 16 a più 16. Anche in questo caso la maggior parte delle funzioni sono raccolte nel menu avanzato. Qui abbiamo essenzialmente il bilanciamento del bianco come costitudine con i controlli separati per alte e basse luci. E la gestione dello spazio colore, il CMS, Color Management System, come si deve intervenire per ogni colore su tonalità, saturazione e valore che in realtà si riferisce alla luminosità di quel colore. abbiamo la possibilità di intervenire sul gamma. Modo film si riferisce al controllo dell'interlacer e in particolare possiamo vedere che abbiamo tre impostazioni, standard, avanzato, basso e avanzato alto. In realtà queste due modalità avanzate si riferiscono all'attivazione dell'interpolazione dei fotogrammi, con effetto più o meno accentuato appunto tra basso e alto. Per quanto riguarda le funzioni multimediali, il TV è giustato di ingresso USB per riproduzione di audio, immagini e video e della connettività di rete con supporto al protocollo DLNA. Via rete però i file supportati sono solo di tipo audio e video. In questo caso vediamo un esempio di come funziona il collegamento via rete. Abbiamo questa bella interfaccia, essenzialmente premendo il tasto blu del telecomando è possibile selezionare il server a cui collegarci e quindi vediamo per esempio per i contenuti audio, le cartelle condivise e quindi la classica suddivisione per artisti, album e genere. Il menu nel caso di perifica USB è essenzialmente identico a questo con l'aggiunta però della navigazione anche per i contenuti video. Venendo dal digitale terrestre abbiamo infine anche un IPG abbastanza spartana in realtà, senza preview dell'immagine, ma che sfrutta tutta la ragazza dello schermo per presentare tutta la griglia dei programmi, ovviamente quando presenti le informazioni trasmesse. Grazie per la visione! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.